Da aprile a settembre 2021 l'ASL di Teramo ha provveduto tra prime e seconde dosi ad inoculare 279 e 597 vaccini anti-Covid. Un risultato straordinario per i vertici aziendali teramani che tracciano un bilancio di questa fase della campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19. Teramo ha dato il massimo di quello che poteva dare, siamo stati la provincia più, però a prescindere da questo, abbiamo fatto il nostro dovere, ci era stato affidato il compito di vaccinare e abbiamo vaccinato il massimo possibile. Purtroppo c'è una sacca che resiste a questo, però questa libertà di non vaccinarsi non risponde al senso civico che ognuno debba avere, non solo per salvaguardare se stessi ma anche per tutelare la salute degli altri. Attualmente in provincia di Teramo sono 232 positivi, 12 ricoverati nel reparto di malattie infettive, un 42enne deceduto e una ragazza di 30 anni ricoverata in terapia intensiva. In particolare questi ultimi due pazienti non erano vaccinati. Un aspetto doloroso sottolineato dal direttore generale dell'Asla di Teramo, Maurizio Di Giosia, appena nominato coordinatore regionale della Fiaso, la federazione italiana delle aziende ospedaliere. Questo è quello che ci preoccupa più di tutti perché è ovvio che quando dobbiamo riaprire le rianimazioni per noi è un problema anche organizzativo perché andiamo a distogliere personale che potremmo impegnare nella fase di ripartenza per tutte le attività operatorie che dobbiamo morire in essere, invece dobbiamo ancora mettere a disposizione degli anestesisti per questo tipo di persone perché vanno trattate in un modo diverso dalle altre persone che sono in rianimazione. In provincia di Teramo la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 deve il suo successo soprattutto alla sinergia tra le diverse istituzioni come l'Università di Teramo e i comuni. A Teramo, a Parco della Scienza, è attualmente operativo l'unico hub provinciale. L'abbiamo dimostrato con i numeri, l'abbiamo dimostrato con l'efficienza grazie soprattutto al personale dell'Asla ma anche agli operatori dell'Ateneo che hanno reso disponibile quello spazio. Abbiamo salvato delle vite ogni giorno, sicuramente superando abbondantemente i mille vaccinati al giorno abbiamo inciso su questo. L'abbiamo dimostrato perché delle amministrazioni pubbliche possono collaborare, possono collaborare velocemente ed efficientemente. Fondamentale intanto per mettere in campo una campagna vaccinale che sia funzionale. L'unica strada che abbiamo per uscire l'emergenza pandemica. I numeri ci stanno dando ragione, stanno dando ragione alla campagna vaccinale. Con l'incremento delle vaccinazioni c'è ovviamente un crollo fortunatamente dei ricoveri ed è evidente che bisogna andare avanti su questa strada.